avete smannettato con linux avete provato installarlo avete provato a capire come funziona a studiare i comandi da utilizzare da shell ma vi trovate nella situazione in cui non sapreste se installarlo su un cliente magari con la paura di non saper fare qualcosa o che il cliente vi chieda qualcosa che voi non sapete fare non ricordate il comando ok allora probabilmente net server fa al caso vostro cos'è net server net server è una distribuzione linux basata su 107 su cui i ragazzi di net si hanno sviluppato sopra una interfaccia web raggiungibile da qualsiasi browser che vi permette per l'appunto di configurare e installare magari dei pacchetti aggiuntivi nel vostro server ovviamente l'installazione senza interfaccia grafica per l'appunto perché tramite questa questa pagina web potete fare praticamente tutto nel sito net server basta lo cercate in google andate nella sezione download potete già scaricare la iso del sistema operativo quindi una volta scaricata la iso del sistema operativo questa scusate è l'edizione community quindi praticamente è open source non ha alcun costo di licenza esiste un'edizione enterprise che poi vedremo magari più dettagliatamente in seguito e che vi dà accesso all'assistenza dedicato ovviamente a pagamento e anche dei pacchetti aggiuntivi opzionali poi vedremo vi ripeto più in là una volta scaricata l'iso l'andate quindi ad installare ora vi faccio un attimo vedere creiamo una macchina velocissima e allora creiamo una macchina velocissima sì anche con pochissima ram non ci interessa tanto vi faccio solo vedere il boot perché l'ho già per comodità installata se ci mettiamo al minimo non ci interessa ok allora eccola qua allora mettiamo il cd di net server ok praticamente al boot del server vi ritroverete in questa schermata se selezionate quella interactive è una classica installazione di 100 s quindi nulla di differente stessa identica interfaccia se selezionate adar avete poi dentro unattended installation cosa fa l'anattene installation non vi chiede niente va avanti da sola la lancio tanto poi la spengo tanto l'ho già installata su un'altra macchina e che fa lui praticamente aveva configurare tutto il sistema con i parametri default decisi da net esiste le schede rete hanno recentemente nelle ultime versioni prima c'era un ip fisso ma nelle ultime versioni prendono il dia il dhcp e come un utente root l'utente root abilitato anche da shell e come utente root e come password netesis con la n maiuscola virgola 1 2 3 4 se non vi ricordate la password non vi preoccupate perché al primo al primo accesso se mettete una password errada lui vi dirà ma sei sicuro che non sia questa password di prima e ve la dice ve la scrive lì in chiaro per cui che poi ovviamente dovrete cambiare in seguito al wizard terminata l'installazione ora io questa la chiudiamo perché l'ho già installato per comodità ok chiudiamo andiamo a lanciare quella già pre installata e vedete parte centos direttamente eccoci quindi possiamo dire andare a digitare root netesis virgola 1 2 3 4 semplicemente vedendo l'ip quindi scrivo if config come vedete a 10 55 vado dal mio browser a digitare quindi https 192 168 10 55 due punti 980 esistono in realtà due interfaccia web una sola 980 una 90 90 molto più recente stanno stanno sviluppando in questo momento cioè in realtà un bel po che c'è però ecco vi faccio prima vedere questa va bene dice che non è sicuro il certificato voi procedete tranquillamente e andiamo a mettere quindi le stesse credenziali a vi faccio vedere metto una password errada vado a fare login vedete mi dice ma non riesco a c'è ma sei sicuro che non sia netesis virgola quindi non ve la potete dimenticare la vado a mettere corretta lasciamo inglese ok ok benvenuto andate avanti mettiamo una password che poi ci ricorderemo deve essere ovviamente complicata ok avanti o demo punto ai zucchi punto local avanti time zone andiamo a prendere italia quindi rom eccolo qua ok andiamo avanti la porta lasciamo per ora per comodità la default altrimenti vi consiglio ovviamente di cambiarla per motivi di sicurezza e qui vivo vi chiede se volete utilizzare un smtp esterno per eventuali notifiche del sistema allarmi e quant'altro se vogliamo mandare statistiche utilizzo non ci interessa applica a questo punto lui è configurata tutti i vari parametri che abbiamo appena impostato il fun principio di funzionamento proprio questo quindi questa sarà la vostra interfaccia web quindi da qui voi andrete a fare tutte le varie configurazioni ogni volta che ne avrete bisogno che dovrete andare a modificare ora teniamo un secondo che finisca vi faccio vedere il resto vi troverete di fronte eccoci qua a una dashboard andiamo sulla dashboard eccoci qua e vi mostra le caratteristiche del sistema quindi spazio sul disco e la release installata la versione del kernel l'interfaccia di rete con il relativo ip e come configurata la memoria in uso eventuali sottoscrizioni a un servizio di aggiornamenti di repository stabile potreste volendo registrare questa edizione community comunque sia su una repository stabile a pagamento l'app time e varie varie diciamo varie informazioni sull'hardware eccetera eccetera ok questo è il menu famoso di cui vi parlavo sotto applicazioni trovate le applicazioni che poi a noi andremo a installare successivamente nel nostro server una diagnostica comodissima perché perché vi permette di andare a fare delle determinate interrogazioni vi mostra quindi il vostro ip pubblico esterno eventuali configurazioni dell'interfaccia di rete se vogliamo le root della rete se vogliamo fare una prova in live mail ns look up bing scan vi fa una scansione della della rete come con n map eccetera eccetera quindi uno speed test quindi diverso in trace root diverse funzionalità l'utilizzo del disco quindi quanto spazio già occupato eccetera e domain account vi dice ecco questo interessante nel senso che dice se volete utilizzare un provider led up locale o remoto oppure night at directory quindi se volete linkarlo a night directory o volete fare un join a dominio oppure volete utilizzare il locale eccetera eccetera ovviamente ora installeremo il locale per comodità log viewer in cui avete vari log del sistema ne sono pochissimo poi mano a mano si andrà a riempire shutdown per spegnere e accendere il server e il software center famoso qui troverete praticamente una sorta di di una lista di pacchetti installabili nel sistema per l'appunto sviluppati dalla da questa azienda e anche dalla community quindi la community che rilascia questi software li rilascia in versione cioè li potete installare aggiungendo repository esterne quando netesis magari vede che dei pacchetti funzionano bene sono stabili non hanno problemi all'utente agli utenti piace li aggiungono direttamente nella nel software center quindi trovate qui senza bisogno di raggiungere repository esterne in network services troviamo i servizi che stanno in questo momento attivi e stanno girando vi mostra su quali porte e su quali interfaccia praticamente nel permesso l'accesso a per esempio l'accesso a questa pagina web che gira sulla sulla porta 980 vi mostra che è accessibile sia dalla rete green che dalla red quindi praticamente anche da internet quindi se andate a fare il forward di questa porta vi funzionerà ssh vi permette di cambiare porta ssh e di permettere il root login o la password authentication tls policy vabbè le varie policy della tls personalizzabili in base a quelle di default e le reti fidate ipotizziamo che questo server sia in vpn con un altro server su un'altra classe di rete non potrebbero dialogare tra di loro se non andate aggiungerla tra le reti fidate quindi per esempio questo serve che sta in classe 10 non potrebbe sfogliare il contenuto del server in classe 5 se non aggiungete nelle reti fidate il backup della configurazione praticamente nell'edizione community voi potete creare un backup della configurazione quindi di tutta la configurazione non dei dati solo della configurazione potendo andarlo a scaricare e mentre in edizione enterprise ad esempio alcuna delle differenze automaticamente il sistema fra dei backup in cloud e direttamente nel cloud nensis e quindi potrete andare andare poi a pescare questi backup ripristinarli in caso di necessità o disaster recovery backup data stesso modo fa un backup dell'intero sistema quindi contiene sia il backup dati configurazione scusate che vede che vedevamo prima che un backup proprio dei dati del server lo fa su varie destinazioni nfs chips su un disco usb vi chiede se volete fare un backup full se volete farlo in incrementale quando lo volete fare quanto volete mantenere di storico quindi comodissimo tutto integrato a delle notifiche su errori e quant'altro ovviamente anche questo è personalizzabile ma per personalizzare quello che va a backupare quindi non solo i suoi software installati qui dentro tramite il software center va si può fare ma va fatto da shell quindi da 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 console dhcps e volete abilitare il server come server dhcp andando a specificare quindi indirizzo di partenza origine soliti parametri che non vi sto a spiegare per annoiarvi inutilmente dns idns server quindi se avete eventuali alias del server o altri host e volete andar via a raggiungere mediante i nomi particolari creati da voi da qui lo potete fare data e ora pool ntp server di sincronizzazione di data ora email in questo caso c'è solo questa cosa quindi se volete utilizzare uno smart host per inviare un server smtp esterno per inviare notifiche di sistema ad esempio il backup fallito lo invia la notifica utilizzando magari uno smart host altrimenti non saprebbe come uscire no in realtà questa sezione è molto molto più ampliata al momento in cui andare andiamo nel software center a installare il pacchetto mail ma questo è un discorso completamente a parte che faremo in seguito network questo è molto interessante vi dice come vedete vi da delle dei messaggi di alert vi dice guarda attento perché sta ancora utilizzando il dhcp e non è ancora evitato il backup vado a modificare perché sennò altrimenti se cambio indirizzo non sarete più in grado di raggiungere il server però b motivi se vogliamo modificarlo cliccate su edit andata impostando statico netmask gateway eccetera eccetera su dns serve i dns in uso dal dal server eventuali proxy nome organizzazioni nulla di che solo quello che compare quando fate il login quindi non serve praticamente quasi a nulla i certificati che utilizza questa pagina web che potrebbe potrebbe essere questo auto firmato gestito dal sistema o potrebbe essere con l'ex script comodo perché se volete utilizzare questo serve come se avrà paci per per stare magari un sito web o altre cose potete utilizzare un comodo meccanismo integrato di let's encrypt per cui provvede lui a rinnovare certificato ogni totte mesi bla bla lost name quindi il nome del server e eventuali rotte statiche ci sono miliardo di altri servizi che poi vedremo mai in video dedicati ora non voglio mettere troppa troppa carne al fuoco e vedremo poi in seguito in seguito come come configurarli come installarli come sono fatti quanti ce ne sono eccetera eccetera spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale mi raccomando per supportare questo questi tutorial tutorial